Oh, finalmente mi vedete nella mia dimora, finalmente! Allora, questo è per farvi capire che non vivo sotto i ponti, ma quando posso e quando potrò comunque i video nella stanza li farò, cioè non è che vivo per strada e quindi faccio i video in macchina. È giusto che mi ritrovo ad uscire da lavoro, ad uscire da non so dove, faccio i video in macchina. Allora ragazzi, come vedete sono tornato eccetera eccetera, però oggi voglio affrontare un argomento un po' delicato. Sicuramente molti saranno dalla mia parte, molti non saranno dalla mia parte, però voglio farvi un po' un ragionamento per quanto riguarda l'allenatore della Roma. Allora, io vi ho detto nel video scorso che la Roma potrebbe tranquillamente prendere Gasperini qualora lo volesse, ma sta aspettando Sarri. Sta aspettando Sarri perché Sarri deve ancora liberarsi dal Chelsea, non si sa se si libererà, se il Chelsea vuole effettivamente mollarlo. Cazzata, in mane, non si sa per quale motivo, però Abramovic sappiamo com'è. E già sto sentendo e già ho letto molta gente che Sarri non lo vuole. Allora, io non capisco per quale motivo Sarri non possa essere un allenatore adatto alla Roma. Ci prendiamo il lusso veramente di rifiutare o di non volere un allenatore come Sarri? Ok. La prima accusa è che non ha vinto niente. Ma perché tutti gli allenatori che abbiamo preso precedentemente cosa hanno vinto nella loro carriera? Allora, vedo molti che dicono Sarri no, gioca sempre con gli stessi undici. Meglio Gasperini perché Gasperini adesso con l'Atalanta ci pisce in faccia. Questa è la più gran cazzata che io abbia mai sentito nella mia vita perché altrimenti a sto punto andiamo a prenderci i semplici che tra andata e ritorno ha fatto sei punti contro la Roma. Quindi è una gran cazzata questa. Sappiamo benissimo che ci sono allenatori e allenatori che si trovano bene in determinate condizioni, in determinate squadre per poi fare il passo avanti, il salto di qualità e non riuscire ad esprimere al meglio le loro idee, le loro caratteristiche di gioco. Quindi io sono il primo a dire che non posso assolutamente dire che Gasperini faccia schifo. A me non farebbe impazzire, ma non lo rinnego assolutamente perché comunque in due anni con l'Atalanta, due o tre anni ha fatto vedere che a pallone ci si può giocare e si possono raggiungere anche obiettivi più alti di quelli che l'Atalanta aspirava. Non sono qui a dire il contrario, però tra Sarri e Gasperini assolutamente mi vado a prendere Sarri. Perché? Perché Sarri viene da anni a Napoli dove ha fatto benissimo e se non ci fosse stata la Juventus avrebbe vinto a mani bassi lo scudetto. Sì, la Juve c'è, non possiamo toglierla, eccetera, eccetera, però record di punti, secondo posto, ha lottato con la Juventus almeno lo scorso anno. Quest'anno col Chelsea è arrivato terzo in classifica, qualificazione Champions, dietro a due squadre che hanno fatto 97-98 punti, finale d'Europa League, finale di Carabao Cup, se non erro, se non dico cacchiate, persa solo ai rigori, che con tutto che Kepa si è messo a fare il bambino che non voleva uscire, voleva parare lui i rigori. Comunque ha avuto dei momenti, un periodo no al Chelsea che è riuscito a ribaltare in una maniera incredibile, pur sapendo che non aveva dalla sua i tifosi e anche la società, è riuscito a ritornare in corsa per la Champions, arrivare dietro due squadre che hanno fatto più di 90 punti e si è lasciato dietro squadre come Tottenham, Arsenal e Manchester United, al primo anno al Chelsea. Ora, tutti quelli che io ho sentito anche, gente che dice, ma se Sarri allenava all'Empoli non l'avremmo mai preso. rispondo subito, veniamo da praticamente quanti anni c'è l'era americana, dieci anni, non lo so, non ricordo, abbiamo sempre preso allenatori scommesse, io mi sono rotto le scatole di prendere allenatori scommesse, di prendere allenatori che partono da zero per poi provarli a lanciare, eccetera, eccetera. Mi sono stancato. Allora, tu questo ragionamento puoi farlo se hai una squadra forte. Se hai una squadra forte, per quanto mi riguarda, non dico che puoi metterci anche il primo scappato di casa, però puoi permetterti un azzardo, quello che forse farà la Juventus qualora dovesse prendere Inzaghi. È comunque un allenatore che ha vinto con la Lazio, però non sono i vari Guardiola, Mourinho, Conte, eccetera, eccetera. Su questo siamo tutti d'accordo. La Juventus ha una base forte, è una squadra forte, quindi può permettersi anche di prendere un allenatore, un gradino, due gradini più sotto di quelli di alto rango, diciamola così. Abbiamo preso allenatori che erano scommesse e in più non avevamo una squadra forte. Quindi mi spiegate perché io per l'ennesima volta devo puntare un De Zerbi, perché un Giampaolo. Basta, basta prendere allenatori e provare a farli diventare grandi. A noi non serve. A noi servono allenatori forti che con il minimo indispensabile riescono a tirarti fuori il carattere e il meglio da ogni giocatore. Magari può farlo Gasperini, ma magari! Ma magari viene Gasperini e ci porta già in Champions, ma magari! Però voi dovete mettervi anche nei panni dei giocatori. Io ho giocato in terza categoria e ho giocato con una squadra scarsa, cioè non eravamo fortissimi, avevamo un allenatore che era forse il peggior allenatore della storia. psicologicamente ti porta a non giocare al meglio perché sai che in fin dei conti la colpa poi va a finire l'allenatore che non è buono, non è un allenatore di carattere, non è un allenatore che è abituato a vincere, eccetera, eccetera. Magari a noi serve l'allenatore Cazzuto che ha esperienza e che ha fatto gavetta, che ha già fatto gavetta e ne è andata bene, perché forse i suoi meriti ce li ha, che sta avendo esperienze positive, così come ha avuto esperienze positive al Napoli, come la sta avendo positiva al Chelsea. Se Sarri era all'Empoli, al primo anno all'Empoli, io avrei detto no a Sarri, ma adesso che so che Sarri è un allenatore che vale, io me lo prendo, ma che stiamo scherzando? Ma poi non mi fa vincere, ma sti cazzi abbiamo, ci possiamo mettere nella posizione di dire che siamo dei perdenti perché vogliamo Sarri che non ha mai vinto? Ma noi, noi della Roma, ma che cosa abbiamo vinto ultimamente per doverci permettere allenatori di chissà quale calibro? Cioè se viene Sarri, ma dovete baciare i piedi se viene Sarri? Allora il Chelsea è una società, quelli del Chelsea sono perdenti perché hanno preso Sarri dal Napoli che non ha vinto a Napoli. Cioè di che cazzo di ragionamento è? Ma non ha senso, ma non ha senso. La Juve si parla di Mialovic, prende Mialovic, sono perdenti perché Mialovic non ha mai vinto niente. Ma che significato ha? Non è un ragionamento sensato. Noi abbiamo preso Luis Enrique dal Barcellona B, scommessa, andata male. Vabbè, è andato dove è andato? È andato pure al Celta Vigo, ha fatto cagare al Celta Vigo, se non ricordo male. È andato al Barcellona e al Barcellona prendono solitamente quelli allenatori che vengono dalla cantera che comunque hanno idee di gioco quasi simili tra loro, perché Guardiola e Luis Enrique più o meno hanno le stesse idee di gioco. Quindi trasmetterle al Barcellona è comunque facile. Quindi Luis Enrique ha vinto al Barcellona, ok, ma Roma non andava bene. Quindi noi abbiamo fatto fare gavetta a Luis Enrique per poi mandarlo al Barcellona. Abbiamo preso Zeman, Zeman, per quale motivo abbiamo preso Zeman? Perché i tifosi volevano Zeman, ok. Altra scommessa, Zeman, altra scommessa, perché non potevi pretendere di vincere Scudetti con Zeman. Sì, praticamente ci ha portato in finale di Coppa Italia e vabbè. Andrea Zoli, traghettatore, quello che è. Poi chi è venuto? È venuto Garcia, scommessa, ha vinto a Lille, ha vinto a Lille, ha vinto all'estero, ha vinto in Francia. In Italia è una scommessa. È andato bene il primo anno, poi dal secondo, purtroppo, mi dispiace, non è riuscito più a tenere in mano la squadra. Ed ecco qui che rientra il carattere di un allenatore. Poi chi abbiamo preso? Dopo Garcia. Non mi ricordo chi ha. Vabbè, è venuto di Francesco, dal Sassuolo. Abbiamo preso di Francesco dal Sassuolo, quindi altra gavetta. Sì, aveva fatto grandi cose col Sassuolo, l'ha portato in Europa League, eccetera, eccetera. Però, altro allenatore di basso profilo che andiamo a prendere e lo impuntiamo subito in una big. Quello che dico io è che Sarri, ora, avrà fatto i suoi errori, perché i suoi errori li ha fatti. Però è un allenatore che ha 60 anni e ha prodato in una big tardi. E quindi non è che ha 60 anni e deve essere il migliore allenatore del mondo perché ha 60 anni. Anche quelli di 60 anni hanno un percorso di crescita come allenatore che devono intraprendere. Magari al Chelsea non avrà fatto gli stessi errori che ha fatto a Napoli. Ecco qui che c'è la gavetta. Ecco che c'è la gavetta. Quindi ha anni arretrati dove ha imparato dei suoi errori. A Napoli l'errore qual era? Che ha snobbato l'Europa League e la Champions League per provare a vincere lo Scudetto e non l'ha fatto. Al Chelsea ha fatto il contrario. Si è concentrato sull'Europa League, ci è arrivato in finale e in campionato si è concentrato ad arrivare in Champions League. Questo è, ragazzi. Questo è. Non possiamo permetterci di snobbare Sarri. Non ha senso. Anche perché se non devo vincere niente, preferisco veder giocare bene la mia squadra a sto punto. Non vinco con Sarri? Non vinco con nessun altro in Italia? Non vinco con nessun altro. Neanche se viene Murigno. Cioè, se viene Murigno cosa pensate? Che vinciamo perché viene Murigno? No, perché no. Ma almeno riescono, allenatori forti riescono a tirare il meglio da una squadra non ai livelli della Juventus. Non so se l'Inter lo sarà, ma almeno, vedete Conte? Conte con una nazionale di basso livello è riuscito a tirare il massimo dai propri giocatori. Perché i giocatori hanno preso le idee del mister che comunque aveva accumulato nel tempo, mentre gli stessi giocatori con ventura hanno fatto cagare. In alcuni casi serve la mano forte, in alcuni casi serve la mano forte all'allenatore che ha esperienza. Questo è quello che penso, ragazzi. Poi magari mi venite a dire che non capisce un cazzo. Sono questioni soggettive. Io non vengo a dire a te che non capisci un cazzo. Per me il mio ragionamento fila tantissimo. Non siamo nella posizione di poter rifiutare Sarri. Anzi, mi meraviglierei se Sarri dovesse accettarla a Roma. Ma per quale motivo dovrebbe fare un passo indietro così? Non lo so. Fatemi sapere voi come ne pensate qui sotto nei commenti. Se è un ragionamento sbagliato, non lo so. Lo voglio sapere da voi. Lasciate un bel mi piace. Tra pochissimo arriverà anche il video sui waltzer degli allenatori. Vediamo un po'. Grazie. Grazie.